Da un po' di tempo a questa parte, a Taranto, sotto l'aspetto burocratico trattino sanitario, stanno avvenendo cose inaudite. Magari ci saranno anche gli estremi di legge, ma ora che vi illustreremo il caso qualcuno davvero inorridirà. Nel senso che, come tutti sapete, nel momento in cui si prenota una prestazione sanitaria, posso pensare a prenotare dei raggi o una visita specialistica, ci si prenotano e viene indicata una data. Se il paziente, l'utente, per qualsivoglia ragione non è in grado di potersi presentare in quella data, deve appunto disdire l'appuntamento e lo deve disdire entro i termini previsti. Ed è giusto, è una scelta, una volontà dell'ASL condivisibile perché è giusto, nel momento in cui non si può essere presenti, è giusto lasciare lo spazio ad altre persone che viceversa potrebbero essere sottoposte a quella, potrebbero ricevere quella prestazione. E quindi chi non lo fa viene sanzionato, sanzionato con il pagamento della prestazione. Dice tu non sei stato in grado di disdire, peggio per te, mi paghi comunque la prestazione. Siamo arrivati però al punto di scavare, scavare, scavare e andare a finire, udite udite, a dieci anni fa. Cioè sono state elevate sanzioni per presunte situazioni in cui il cittadino dieci anni fa, dieci anni fa, non ha annullato quella prenotazione. Allora io dico, ma stiamo veramente parlando seriamente, ma come si può pretendere che il cittadino a distanza di dieci anni debba conservare o debba ritrovare quel pezzo di carta in cui aveva annotato il numero di annullamento della prestazione dieci anni fa. Mi sembra davvero un assurdo. E siamo qui presso l'ATRAT, l'associazione Atratonus, associazione tra piantati di Taranto, per parlare di questa vicenda. Lo faremo con il legale, l'avvocato Cua, e lo faremo con il presidente Francesco Vincenzo. Allora, avvocato Cua, lei è il legale dell'associazione, ma al di là del suo ruolo nell'associazione, mi sembra davvero una situazione incredibile, perché dicevano i latini, dura l'ex sed l'ex. I tedeschi dicevano Gesets ist gesets, la legge è quella, la devi rispettare. Se non la rispetti, peggio per te, paghi. Giusto. Però una legge, un'applicazione della legge esasperata, esasperata ed esasperante come questa, diventa un'ingiustizia. Ripetendo quanto dicevano i latini, sumum ius summa inuria. Una legge applicata in maniera estrema diventa un'ingiustizia. Avvocato, lei è un soggetto autorevole in materia proprio di diritti negati o di stranezze inerenti ai diritti del malato. Volevo sapere un po' il suo pensiero, il suo parere, anche da un punto di vista proprio giuridico. Buongiorno, in effetti è una cosa assurda, perché sì, è vero, il termine di prescrizione è di dieci anni, però applicare, cioè arrivare effettivamente a chiedere dei rimborsi del 2010-2011 a persone anziane che magari hanno prenotato una visita, l'avranno sicuramente disdettata. Magari non sono più in vita purtroppo. in vita o in alcuni casi hanno partecipato, hanno fatto quella visita, le è stata rilasciata una ricetta, un qualcosa di cui non si attraccia. Come fanno a risalire, a dimostrare che effettivamente quella visita è stata fatta, che quella visita è stata disdettata? Credo che l'ASDA dovrebbe pensare ad altro. Sì, questo è un modo di far cassa, lo capiamo tutti. Così come, vabbè, è inutile adesso. Andare a fare cassa e a voler, andando poi a stritolare, scusatemi l'espressione, il povero Cristo, non mi sembra un'accusa eticamente corretta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo di questi rimborsi, di queste richieste ne stanno arrivando tantissime. Non dico ogni giorno, ma quasi, quasi, ogni settimana vi sono richieste, dicendo che devo fare, devo pagare, non devo pagare, così, così. Io mi auguro che l'ASDA, non so, ponga, cioè, rifletta un attimino e si intraprenda una strada diversa per cercare di, non lo so, di far cassa. Ma questo non mi sembra proprio il caso giusto. Oltretutto, io immagino un momentino la persona anziana, la signora Maria, che magari non si regge in piedi, che ha anche difficoltà a scrivere. Ma voi immaginate che questa persona, a distanza di dieci anni, con tutte quelle patologie che poi si sono accumulate negli anni successivi, deve avere la freschezza, la lucidità, deve essere così limpida mentalmente di andare a trovare quella nota, quel numero con cui appunto veniva annullata la prestazione. Io, è pressoché impossibile, considerando appunto che trattasi di persone spesso esenti dalle spese di, dal pagamento del ticket, quindi che non presentano nemmeno dichiarazioni di redditi, che non hanno bisogno di conservare gli scontrini e quindi come si fa a recuperare documentazione probatoria di dieci anni fa? È praticamente impossibile. Direttore Rossi, invece di accanirsi, tra virgolette, accanirsi, perché voi dite la legge ce lo consente, sì è vero, però la legge anche vi impone di andare a vedere, per esempio, i crimini che si commettono in il Barcelormittal. Voi rappresentate, dovete garantire la tutela del diritto alla salute, siete i massimi rappresentanti della sanità. Pensate piuttosto che alla signora Maria, la povera Crista, pensate alle porcate, porcate per non dire altre parole più pesanti, che avvengono in il Barcelormittal, nel silenzio di tutti, nel silenzio di tutti. Poi la gente si ammala di cancro e magari quell'ammalato di cancro poi si dimentica di annullare la prestazione o dopo dieci anni addirittura, anzi meglio, o peggio, dopo dieci anni si va ad accanirsi, tra virgolette, nei confronti di questa gente che è in difesa. Passiamo al Presidente Francesco Vincenzo, che è Presidente di Atrat. Presidente, lei in associazione ha ricevuto parecchie segnalazioni sul caso. Sono molte e molte numerose le segnalazioni effettuate alla nostra associazione. Qua ce ne abbiamo un bel po'. Tenete presente che stiamo parlando di persone ultra settantenni, ultra ottantenni, che hanno un tasso di invalidità pari o superiore al 100%. Quindi sono persone che ovviamente non potranno mai dimostrare di aver effettuato o aver pagato il ticket. Ma se è un invalido al 100%, certamente il ticket non l'ha pagato questo paziente. Quindi avrebbe dovuto certosidamente conservare il numero di prenotazione che veniva dato per telefono o di persona. Quindi questa persona dopo dieci anni doveva tenere l'archivio delle prestazioni. ma la cosa più assurda è che il 90% di queste persone che sono venute a chiedermi aiuto credevano ancora, la legge è cambiata da qualche anno, che il mantenere la documentazione attestante i vari pagamenti, parliamo anche di luce, gas o roba del genere, si poteva conservare fino a 5 anni. E chiaramente la legge è cambiata, dice che è passata 10 anni ed è così. Ora mi domando. L'Enel, il distributore di energia elettrica o di gas, sulle bollette che cosa fa? Emana, sta scritto che tutto ciò che è precedente è stato pagato. Si è stato pagato. Certo. Ma io domando e dico, ma questo sistema non può essere usato anche da un ente pubblico come l'ASL. Ora, come si può rimarcare in una prenotazione che quella non è stata annullata. Visto che sono tecnicamente pronti, hanno dei computer, hanno delle memorie. Hanno le ditte di appalto, esperte in informazione, spendono e spandono. Spendono centinaia di migliaia di euro per avere un... L'informatizzazione. Si parla tanto di questa informatizzazione, ma esiste. Ora, mi domando, come si fa a chiedere a un'ultra settantenne o ottantenne se nel 2011 ha pagato o meno un ticket, tenendo presente che questa persona ha un'invalidità del 100% e quindi anche sente al ticket. Questa persona magari anche sta buttata in un letto su una sedia a rotelle e magari ha perso anche le facoltà cognitive perché purtroppo l'incedere degli anni e delle patologie travolge tutto e tutti. La cosa più assurda che volevo rimarcare è che familiari o anche i pazienti stessi che si recano nei vari distretti per avere informazioni o vedere la situazione, dicono che non c'è nessuno che li può accogliere e quindi dare queste informazioni. Le informazioni demandano tutti, deve andare alla cassa. Cassa che cosa vuol dire? Vuol dire pagare? Quindi non hanno nessuna possibilità di potersi tutelare. Beh, dobbiamo dire che così concludiamo questa nostra denuncia. Lo faccio con rabbia, davvero, con rabbia ed amarezza perché vedere i più deboli calpestati così è una cosa che mi mi inorridisce perché tanti di noi hanno un padre e una madre anziana, sofferente e vedere questi ammalati che diventano dei numeri e che non vengono considerati nella loro dignità di essere umani è davvero deprecabile. Avvocato, che dire? Sembra un asl che si fa forte con i deboli e debole con i forti, forte con i deboli nei confronti di questi poveri Cristi e dico anche deboli con i forti perché quelle porcate, sottolineo, che avvengono per esempio in Ilva evidentemente non vedo da parte dell'asl quella stessa sollecitudine, quella forza, quel mostrare i muscoli che invece avviene con il povero Cristo. No comment, che dire? E' così. Bene, noi non vogliamo dare la croce addosso a nessuno ma come lo slogan delle mie trasmissioni, della mia realtà editoriale, dalla parte dei più deboli sempre e comunque. Pensiamo di averlo fatto anche oggi con l'associazione Atrat e con il suo legale.